Ho avuto una visione. La gente bruciava. Tutto era distrutto. Era Athena. Era opera sua. Era opera mia. Non lasceremo che accada, giusto? Ho visto cosa hai fatto nel ring. Sapevo che eri tu, Seiya. Se ti dicessi che Isabel è la reincarnazione della dea Athena e che tu sei destinato a diventare uno dei suoi guerrieri protettori. Cosa si prova a essere una dea? A volte mi sento un ospite nel mio stesso corpo. Pronto per l'addestramento? Il cavaliere di Pegasus è coraggioso. Umile. E dedica a proteggere Athena con la sua stessa vita. Come ci sei riuscita? La guerra che ci attende è diversa da tutte le altre. Devo salvare il resto di noi da lei. Credi che io volessi tutto questo? Seiya! Il suo potere è un ostacolo. E lei vuole controllarlo. Nessun uomo riuscirà a fermarlo. Meglio... allacciare le cinture. Ti credevi l'unico cavaliere? Perchè... Comunicare le cinture. Qualcuno si può fare... Perchè... Perchè... Perchè...